buongiorno a tutti anche se dovrei dire buonasera visto che appena finita la partita dell'italia comunque ne parliamo dopo che farò il resoconto delle prime due giornate di queste qualificazioni ai prossimi europei 2020 vi volevo parlare di una cosa perché naturalmente sempre quel ragazzo lì di cui vi ho parlato già nel video di che avete visto martedì perché ormai questo lo vedrete mercoledì mi ha fatto diciamo mi ha dato lo spunto per questo video praticamente lui come tantissime persone sapete benissimo che gli viene un attimino di possiamo dire iterizia fastidio al fatto che la nazionale debba giocare durante il campionato e si debba fermare il campionato a ottobre si ferma il campionato marzo si ferma il campionato per giocare amichevoli o partite della nazionale e poi magari si ferma anche un'altra volta ma di solito è sempre verso ottobre verso la primavera che può essere marzo aprile quindi il fatto che si fermi il campionato per una domenica oddio cosa facciamo che palle che noia si potrebbe giocare a giugno e luglio fare tutte queste partite qua raggrupparle a giugno e luglio in modo che così tanto se non ci sono i mondiali che problema c'è allora il problema è molto semplice se tu raggruppi sono sei partite praticamente o anche di più perché il gruppo dell'italia comprende cinque squadre gli europei 2020 si svolgeranno tra un anno e tre mesi quindi se tu le fai a giugno poi dopo devi farne tutte assieme a giugno che cosa fai ogni tre giorni una partita che rincoglioniscono i giocatori non lo so è una partita a settimana però sono 5 5 10 nostro girone da sei squadre sono 10 10 partite 5 di andata 5 di ritorno dieci partite le puoi raggruppare in un mese e mezzo volendo giochi ogni mercoledì giochi domenica mercoledì domenica ogni tre giorni ogni quattro giorni e finisci a metà luglio 20 luglio perché devi dargli il tempo a sti poveracci di finire il campionato fare eventualmente la finale di champions chi ce l'ha e poi l'8 giugno fa il raduno e al 15 20 di giugno inizi con le partite quindi una partita ogni tre giorni sono 10 partite due alla settimana 5 settimane 5 settimane 20 giugno fine luglio fine luglio poi vuoi dargli il mese di vacanza le tre settimane di vacanza sti poveri disgraziati che hanno giocato quindi naturalmente il campionato non lo puoi fare iniziare a metà agosto che la metà delle squadre hanno 4 5 o più nazionali che sono a spasso perché se no falsi tra virgolette il campionato le prime cinque partite di campionato sono falsate quindi siamo sempre lì le partite si bloccavano da anni si sono bloccate da anni e una volta la nazionale era un piacere vederla quando giocava la nazionale fin di fantozzi frittatona che a lui piaceva tanto birra gelata e rutto libero fantazzi che vedea la partita mercoledì della nazionale o al sabato quello che era era un piacere anche se erano le partite di qualificazione era un piacere adesso una rottura vedere la nazionale io francamente lunedì sera che ho visto germania olanda ecco germania olanda vale quanto il 90 per cento delle partite che vedo nel campionato italiano durante l'anno il 90 per cento vale il 90 per cento perché quella partita con il 90 per cento delle partite del campionato italiano sono un lesionamento di testi ti addormenti anche se gioca la mia inter anche se gioca la mia inter certe partite ti addormenti perché perché come dico sempre per vedere una bella partita ci vogliono due squadre che entrano in campo e il loro obiettivo è fare gol all'altro non prenderlo se tu trovi una squadra che se ne sta bella schisce però sa ripartire in contropiede ti puoi anche divertire ma se trovi squadre come l'instein o la finlandia che si mettono lì mettono il pulmo e ne buttano palloni alla viva al parroco che non superano manco la metà campo si mettono lì non gli segni perché si mettono lì la svezia contro di noi ha trovato un gollozzo su otto gol sfigatissimo perché come al solito vanno lì mosciano e spingere i tiri e poi dopo li fanno finire dentro noi abbiamo preso là un palo che sta tremando ancora adesso e al ritorno la svezia si è messa in difesa non ha combinato niente ma si è messa lì ha messo il pulmo e tu non gli segni più e ti vengono i lesionamenti di test germania e olanda sono entrate in campo tutte e due per farsi male nel senso proprio di farsi gol l'olanda si è mangiata due gol con babbel o come cacchio si chiama mister capello mi sono fatto il capello rosso come uno zulu si è mangiato due gol perché se no al primo tempo finiva due a due o due a tre nella ripresa l'olanda ha giocato per 40 minuti in attacco la germania ha fatto un contropiede di quelli giusti ha trovato il gol e ha vinto però è stata una partita divertente dal primo all'ultimo minuto perché c'erano due squadre che giocavano quindi non muore mica nessuno se anche gioco per una settimana alla nazionale ti vedi delle belle partite lo stesso delle varie nazionali non è che non c'è calcio la rottura il lesionamento di scatole viene a giugno che inizia il calcio mercato che non fanno altro che parlare di calcio mercato quel mese lì è da rottura quello sia una rottura perché poi dai primi di luglio cominciano con le amichevoli eccetera cominciano a vedere del bel calcio poi praticamente dopo le prime due amichevoli che sono con rappresentative ridicole cominciano ad arrivare partite interessanti con squadre di livello delle altre nazioni o anche tra le stesse squadre italiane quindi il divertimento c'è lo stesso vedere la nazionale deve essere un piacere non raggruppiamo oddio c'è per una per una domenica poi ho già visto che sabato e domenica c'è il campionato martedì mercoledì e giovedì c'è ancora il campionato perché fanno l'infrasettimanale la domenica dopo è ancora il campionato e poi c'è la champions quindi ce ne sono di partite anche se per una settimana non c'è il campionato o un attimo di relax non succede mica niente la miseria tanto ci sono le partite della nazione le partite della nazionale le partite delle altre squadre ci sono dieci gironi tutti interessanti con risultati anche abbastanza sorprendenti che non mi sarei mai aspettato e dopo ve ne andrò a parlare quindi non lo so tutta questa oddio c'è ci si ferma il campionato una settimana come faccio che palle ti guardi la nazionale ti guardi la nazionale delle altre su delle altre nazioni ti hai 2500 partite lo stesso ci sono dieci gironi se non ero dovrebbero essere dieci magari sono anche dodici non lo so devo devo ricontarli però c'è una marea di partite lo stesso non si muore mica se per una settimana per un weekend non c'è il campionato non si muore mica tanto quando torniamo quattro partitone di cartello mica da leader sandoria milan interlazio roma napoli e e la fiorentina mi sembra contro un'altra squadra che quindi cosa volete di più fiorentina davanti probabilmente non lo so adesso non mi ricordo a memoria però c'è libidine quindi la miseria cioè io sono contrarissimo alla roba anche perché ripeto se fai tutto a giugno e luglio poi devi lasciare il tempo a tutti i nazionali di farsi le vacanze tornare arrivare in forma gli ci vogliono due mesi quindi ce li hai pronti per metà settembre a metà settembre inizia la champion ti trovi con tutti i nazionali che sono all'80 per cento ad andar bene e quindi anche lì le prime giornate di champions falsi la champions perché magari quelli che invece non hanno avuto tanti nazionali via ci hanno già la squadra bella pronta e magari proprio quella partita lì farà la differenza nell'ambito del girone cosa ne sai quindi si è fatto così da 50 anni 60 anni non vedo perché si debba sempre cambiare perché oddio per una settimana per una settimana al mese di marzo una settimana al mese di ottobre è giusto la settimana che è appena iniziato il campionato a settembre non muore mica nessuno sono tre volte all'anno oddio si ferma il campionato non muore mica nessuno domenica si rigioca e tanto però fatemi sapere voi se invece sareste d'accordo col fare tutte le partite di qualificazione o all'europeo o al mondiale tra giugno e luglio del periodo antecedente l'anno precedente al mondiale per intenderci visto che comunque dall'europeo al mondiale ci sono sempre due anni che ballano e in quei due anni devono farci stare dentro queste queste partite io vi saluto vi ringrazio aspetto i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video che appunto riguarderà quello che è successo in queste due giornate di europa league ciao